E' in edicola il nuovo quindicinale di informazione dal titolo Pimo Piano News. Ecco, come nasce? Diciamo che l'esperienza editoriale parte da lontano. Noi già dal 2000-2001 abbiamo editato un paio di giornali che hanno fatto abbastanza successo in Sicilia. Oggi, vedendo lo stato di degrado che c'è in questa Sicilia, in questa provincia di Agrigento, abbiamo ritenuto opportuno ritornare e riprendere da dove avevamo lasciato. Perché i cittadini devono comprare questo quindicinale? Noi faremo riflettere su alcune cose. Faremo riflettere che la comunità europea è un'azione di criminalità organizzata. Faremo riflettere che l'euro non è una moneta ma è un metodo di governo. Faremo riflettere sul fatto che non c'è un'imprenditoria illuminata. L'imprenditoria non può oggi essere coloro i quali gestiscono i servizi pubblici, ma deve essere quella di imprenditoria che porta know-how e porta innovazione in termini di sviluppo e di novità. Faremo riflettere su tutte queste cose e faremo anche riflettere sul malaffare che c'è in Sicilia e in provincia di Agrigento. Dove sarà possibile trovarlo? Il giornale sarà distribuito in tutte le edicole della Sicilia. Questo è il primo numero. Il primo numero avevamo fretta di mandarlo in commercio, però dal prossimo numero ci sarà una distribuzione più capillare e anche un giornale che si aumenterà di 16 pagine, per cui sarà completo nella sua interezza. Il primo numero avevamo fretta di mandarlo in un'imprenditoria. Il primo numero avevamo fretta di mandarlo in un'imprenditoria. Il primo numero avevamo fretta di mandarlo in un'imprenditoria. Il primo numero avevamo fretta di mandarlo in un'imprenditoria. Il primo numero avevamo fretta di mandarlo in un'imprenditoria.